Una candidatura unitaria di tutte le forze politiche, del resto la nuova provincia di Padova è stata questa negli ultimi anni, la provincia dei sindaci e i sindaci non hanno colore, hanno problemi da risolvere e io voglio continuare in questa logica con tutti coloro che condividono questo progetto di servizio per gli altri 101 comuni della nuova provincia di Padova. Urna aperta in provincia Padova per eleggere il dopo è Noxoranzo, dopo un'estate di confronto alla porta della candidatura unica e dell'elezione per quasi plebiscito si apre per il sindaco di Loreggia, un passato prossimo da vicepresidente della provincia, un passato più lontano da vice sindaco del suo comune di lungo corso. Messi da parte colori politici e interessi di partito la convergenza si è trovata attorno a quello che sembra essere il partito dei sindaci. Grosso grazie è verso i partiti che hanno fatto un progetto unitario su questo, non era facile, soprattutto in un momento di divergenze a livello nazionale tra i partiti, a Padova si è trovata la coalizione unita intorno ad un candidato. Spero di essere all'altezza assieme a tutti gli altri che oggi formano il consiglio provinciale ma anche a quelli che verranno nel consiglio provinciale che verrà eletto a gennaio prossimo. La provincia dei sindaci la definisce più volte il candidato Bui, una provincia che nonostante la riforma continua a erogare servizi ai cittadini. Partiti, equilibri e confronto si riapriranno in vista dell'elezione del vicepresidente e della nomina dei consiglieri con delega, ma tutto questo è rimandato a fine gennaio, quando si terranno le elezioni dei consiglieri provinciali.